Grazie, iniziamo con la tutela. Quinto punto dell'Undine del giorno, mozione del consigliere comunale Pinton, Flavio, del Movimento 5 Stelle, inquinamento atmosferico, qualità dell'aria, azioni apte al miglioramento della situazione attuale. Consigliere Pinton, a lei la parola. Grazie Presidente. Grazie, iniziamo con la tutela. Sono sei pagine che riportano prese d'atto di normative vigenti, ma in materia di salute dell'aria, in materia di salute dei cittadini. La mozione riporta alcune elementari spiegazioni su che cos'è il particolato sospeso, su cosa sono le polveri sottili e soprattutto sui loro certificati, tra virgolette, effetti sulla salute umana e animale. La mozione riporta delle considerazioni legislative, riporta dei richiami della comunità europea sul rispetto dei valori di leggi e delle quantità degli inquinanti nell'aria. La mozione cita rapporti effettuati per la Commissione europea, rapporti di associazione ambientaliste. Questa mozione è stata presentata un po' di tempo fa, non ho fatto in tempo a mettere dentro quindi un ultimo rapporto che è uscito i primi dell'anno qui da parte di Lega Ambiente, che disegna davvero uno scenario preoccupante, soprattutto per la nostra regione Veneto, che secondo i dati e la relazione che Lega Ambiente ha dato, risulta essere una delle regioni più inquinate d'Europa. Per quanto riguarda naturalmente l'aria che respiriamo e non è un problema che riguarda solo le città, come spesso ci viene raccontato, perché ci sono dei comuni della provincia che hanno valori molto alti e apparentemente non giustificati, visto che non c'è la concentrazione, come siamo abituati a parlare di molto traffico. A questo proposito l'unica cosa che mi sento di citare, senza leggere le sei pagine, che sarebbe noioso e occorrerebbe parecchio tempo, mi sento di citare solo una cosa che scrive la mozione, cioè dal registro dei tumori del Veneto emerge che nel Veneto nel 2012 si sono rilevati 31 mila nuovi casi di tumore, questi sono stati superiori al resto d'Italia. C'è un dato però, la popolazione coperta dal registro dei tumori del Veneto è parziale, il 49%, perché parecchie ASL, USL non vi aderiscono, non sono dentro, quindi non hanno dati. Noi siamo consci naturalmente che un comune da solo non può fare granché, ma siamo altrettanto consci che tanti comuni, insieme, possono fare massa critica e ottenere ascolto. Il nostro obiettivo, come gruppi consigliari 5 Stelle della provincia, è stato proprio questo, provocare interesse, se tanti comuni approveranno questa mozione, e stimolo quindi ad occuparsi nelle sedi competenti. Quindi io nella presentazione di questa mozione non andrò a leggere le sei pagine della mozione stessa, io mi auguro che qualcuno di voi le abbia lette, sono alto per rispetto di credo di un buon lavoro e del tempo dedicato, e spero anche appreziate il fatto che ho fatto sintesi nella presentazione delle richieste, della mozione. Credo sia corretto a questo punto, dopo questa sintesi, rivolgere solo le richieste che andremo a votare questa sera. E cioè che il Consiglio Comunale si esprima, ed è il chiediamo classico della mozione. Punto 1. A fronte dell'avvio della Comunità Europea di procedure di infrazione per l'Italia, per non aver rispettato la norma relativa alla concentrazione del PM10 e del PM2.5, di intervenire presso l'amministrazione regionale per verificare i motivi per cui non sono stati adottati i provvedimenti dovuti e necessari per uscire dallo stato di illegalità rispetto alle normative europee. Il punto 2. Se gli organi in indirizzo non ritengano opportuno, ove ne sussistano i presupposti, esercitare i poteri di cui l'articolo 5 del Decreto Legislativo 112 del 31 marzo 1998. Il punto 3. Di adottare i necessari provvedimenti per assicurare il rispetto della Direttiva 2008-50 della Comunità Europea, ad intraprendere pressanti iniziative, anche mediatiche, quindi giornali, quotidiani e locali, affinché la nostra USL 16 sia inserita all'interno del Registro dei Tumori del Veneto, e ad avviare il prima possibile la trasmissione dei referti codificati ed informatizzati delle anatomie patologiche. Il punto 5. Visto che il PTRA è definito un documento dinamico, richiedere all'ARPA l'aumento delle stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria, fornendo possibilmente i dati online. Chiediamo inoltre, in merito a questa seria problematica della qualità dell'aria che riguarda i cittadini di Mestrino, e dal momento che il Sindaco rappresenta l'autorità sanitaria locale, ai sensi, qui vengono citati tutti gli articoli, quali azioni si vuole prendere in considerazione e quali tempistiche. A questo proposito, come ultima cosa, mi premeva sempre dover riscontrare una dichiarazione che ha fatto l'assente di questa sera, sul fatto che aveva dichiarato qualche tempo fa sui giornali, sul fatto che noi su questo tema avevamo suggerito che tutti andassero in bicicletta o a piedi, dichiarazione sui giornali con tanto di virgolette. Ora, o si tratta di ignoranza ingiustificata o si tratta di bugia, perché noi non avevamo suggerito in campagna elettorale su questo tema che tutti andassero in bicicletta o a piedi, avevamo parlato di carpooling, avevamo parlato di incentivazione all'uso dei servizi pubblici, c'è il nostro programma che lo scrive, c'è un dibattito televisivo al quale abbiamo fatto che certifica questo, che era presente anche Simone, era assente anche quella volta il Sindaco, chissà perché, e quindi non diciamo bugie cortesemente. Direi che ho finito con la presentazione. Grazie consigliere Pinto, ricordo che il nuovo regolamento in vigore da oggi prevede che ogni mozione venga presentata, discussa e votata entro dieci minuti, quindi a tutti i consiglieri, visto che va in nove. Buonasera, ogni mozione è dieci minuti per la presentazione e la discussione, il tempo massimo dedicato alle mozioni è di 45 minuti. Buonasera, il comune di Mestrino fa parte del tavolo tecnico zonale, area metropolitana, della provincia di Padova e assume i provvedimenti che vengono decisi nel tavolo tecnico. Come da voi evidenziato, nella vostra mozione la pianura padana costituisce un unico bacino aerologico nel quale particolari condizioni orografiche e meteorologiche comportano frequenti episodi di accumulo degli inquinanti. tale situazione comporta che singole azioni di un comune non possono portare un effettivo beneficio alla popolazione residente nello stesso in quanto l'inquinamento atmosferico è diffuso su tutto il bacino padano. E' quindi necessario, per affrontare il problema dell'inquinamento atmosferico, adottare politiche e azioni comuni a livello sovracomunale. Tra l'altro, essendo il comune Mestrino attraversato dalla strada regionale 11, sulla quale non ha competenza per l'assunzione di eventuali provvedimenti di limitazione della circolazione, ma che costituisse una delle maggiori fonti di inquinamento atmosferico presente nel territorio comunale, si capisce come l'unica possibilità per tutelare la salute dei cittadini sia costituita dall'assunzione di provvedimenti a carattere unitario su un'ampia zona di territorio e nella fattispecie a livello di intero bacino padano e non su di un singolo comune. Si ritiene pertanto che la complessità della materia non sia gestibile a livello di singoli comuni con poteri sostitutivi, ma l'amministrazione comunale si impegna a promuovere nelle opportune sedi e in particolar modo con i comuni con termini e facendo parte del tavolo tecnico zonale dell'area metropolitana della provincia di Padova, l'adozione di misure comuni volte al contenimento dell'inquinamento atmosferico e quindi alla tutela della salute dei cittadini. Le statistiche elaborate da Registro Tomori del Veneto basano sulla registrazione dei rafferti di anatomia patologica di riferimento dell'USL. Tale attività è quindi legata all'invio materiale dei rafferti sia esse in via cartacea e o digitale. A seguito della vostra interrogazione abbiamo preso contatto con il Registro Tomori del Veneto nella persona del dottor Manuel Zorzi, che ha chiaramente informato sulle interazioni tra l'USL-16 e l'anatomia patologica di riferimento, intercorse nel 2014. Tali interazioni hanno portato all'inizio del processo di digitalizzazione dei rafferti istologici. Ad oggi sono stati inviati dati e orefferti inerenti al periodo 2006-2009 ed è in atto il trasferimento aggiornato del 2012. Secondo quanto esposto dal dottor Zorzi, nell'arco di alcuni mesi il servizio di trasmissione doveva essere regolare. Questa condizione permetterebbe l'adeguamento delle statistiche. A seguito di questo preliminare contatto si è comunque proceduti all'invio al direttore dell'USL-16 di una nota di informazioni in merito alla questione. Grazie. Grazie, Sessore Tombolato. Consiglio Gottardo. Anche noi della lista civica Vivi Mestrino, particolarmente attenti e sensibili a tematiche di carattere ambientale, abbiamo letto con attenzione la mozione presentata dal Movimento 5 Stelle. Ne abbiamo fatto diverse considerazioni e soprattutto abbiamo condiviso in linea di massima proprio tutte le considerazioni che sono state citate e trascritte. In particolare, a fronte proprio, e vorrei anche andare un attimino in incontro, o meglio, in scontro con quanto detto dall'assessore all'ambiente, a fronte della modesta attività e attenzione della Regione su tematiche ambientali, noi siamo convinti che sono proprio i comuni stessi che dovrebbero essere propositivi e per primi propositori di diverse attenzioni, di diverse pressioni a livello anche istituzionale e attivare qualsiasi tipo di attività che possa favorire ovviamente un miglioramento delle condizioni ambientali. I dati che sono stati resi pubblici anche ultimamente vede appunto che l'asse della Piaduna Padana, in particolare l'asse Padoa-Vicenza-Treviso, rientrano tra le città ai primi posti purtroppo di una classifica certificate inquinanti e che hanno superato il PM10 con valori veramente molto molto gravi. Io ho il dato riferito all'ARPA del Veneto, esattamente Padova ha superato 67 volte il numero progressivo dei superamenti superiori a quello stabilito per l'anno scorso, 53 Treviso e 59 Vicenza. Quasi tutte le città del Veneto ha esclusione di Belluno, per le ragioni ovviamente che della loro... Ma le iniziative che potrebbero essere attivate per esempio da un'amministrazione comunale e nello specifico da una certa attenzione e una sensibilità di carattere ambientale, vedono ovviamente il parziale blocco del traffico, determinare determinate aree, l'incentivo ad usare determinate modalità che sono state citate anche dal collega consigliere Pinton, ossia lo car sharing, il car pooling, incentivare l'uso della bike, incentivare la riduzione della velocità, perché anche solo a ridurre la velocità di transito nella nostra statale favorisce un minor consumo. Mezzi adeguati, perché ci sono ancora in circolazione purtroppo diversi mezzi obsoleti e poi ho trovato ovviamente una novità che devo dire la verità non conoscevo, c'è anche un'iniziativa o meglio una sorta di intervento, chiamiamolo edilizio, si chiama pittura fotocatalittica, sono delle vernici particolari che sono stati studiate per fare da fotocatalizzatore, iniziative che potrebbero essere promosse attraverso degli incontri con la popolazione. Noi, vista la mozione presentata dal Movimento 5 Stelle, volevamo proporre proprio al consigliere Pinton di introdurre un emendamento, o meglio di integrare ai punti già in essere della mozione due punti in particolare, ossia di individuare attraverso appositi progetti ed azioni mirate, misure per ridurre il traffico veicolare transitate sulla strada regionale 11, al fine di limitare le emissioni di gas inquinanti ed in particolare di polveri sottili, i famosi PM10, e di impegnare l'amministrazione comunale a realizzare iniziative di formazione rivolte a tutta la popolazione sui temi della qualità dell'aria, sulle iniziative che ciascun cittadino può mettere in atto per limitare le emissioni di gas inquinanti e sulle conseguenze che l'inquinamento dell'aria comporta sulla salute umana. Ecco, chiediamo appunto al collega del Movimento 5 Stelle se questi due punti potrebbero essere integrati all'interno della mozione presentata dal gruppo consigliare Movimento 5 Stelle. Grazie. Grazie consigliere Gottardo. Allora consiglieri, io vi ho messo l'allarme, siamo a 15 minuti, allora il regolamento l'avete deciso voi in commissione, allora io non vorrei fare il tiranno, le prime volte va bene, però se, e ci sono solo due emozioni, ma se ce ne fossero di più stiamo togliendo top, quindi per oggi va bene. Ecco, grazie consigliere Gottardo, ci sono altri interventi, altrimenti... Consigliere prego. Sulla proposta del gruppo Vivi Mestrino non ho alcuna difficoltà ad accettare questo emendamento, quindi siamo assolutamente d'accordo con questa ulteriore proposta vostra che va nel nostro segno e quindi ci mancherebbe che siamo in disaccordo su questo, sì, quindi questo emendamento a noi va bene. Mi viene da fare una considerazione velocissima su quanto diceva sia Gottardo sia l'assessore. Un po' per caratteristiche del Movimento 5 Stelle e un po' in generale per caratteristiche soggettive, noi siamo dell'idea della politica dal basso, diciamo, del coinvolgimento dei cittadini verso l'interesse pubblico e non aspettare che sia il grande capo che decida il bene per noi. Quindi, come dicevo prima, pur coscienti che il piccolo comune, piccolo inteso nei confronti delle problematiche, perché non siamo così piccoli, siamo perfettamente consci, l'ho detto anche in sede di presentazione, che il piccolo comune da solo può fare ben poco contro le lobby, contro la stessa amministrazione regionale, e contro il governo centrale, può fare nulla. Però il contrario, e cioè aspettare che faccia qualcun altro, secondo noi è sbagliato, almeno mettiamoci a posto la coscienza, non riusciamo a raggiungere l'obiettivo, magari no, però se assieme a noi si aggiunge Selvazzano e si aggiunge Rubano e si aggiunge una serie di altri comuni, diventa un bel pacchetto di pressione sia mediatica sia politica, magari riusciamo ad ottenere quello che invece, rimanendo seduti e dicendo aspettiamo che sia Renzi o Zaia a decidere queste cose, no? Ecco. Grazie consigliere Pinton. Allora, passerei alla dichiarazione di voto sugli emendamenti presentati dal gruppo Movimento Vivi Mestrino, scusate, faccio un po' di confusione. Ah, scusi consigliere, mi illumini. Ah, ok. Scusi, lui è accettato. Lui chi ha accettato? Quindi votiamo tutto insieme? Votiamo tutto insieme. Allora, dichiarazione di voto dal gruppo di maggioranza. Per quanto riguarda la mozione, quella del Movimento 5 Stelle, allora, volevo rispondere in questa maniera, cioè che il Comune di Mestrino è concio di quello che sta accadendo, dell'inquinamento che subisse, dato proprio dal traffico. Abbiamo anche messo in atto diverse iniziative per quanto riguarda l'abbattimento dell'inquinamento da parte degli uffici pubblici, basta guardare i provvedimenti che sono stati presi per il Comune adesso, per la palestra di Risaro, adesso prenderemo anche per le scuole e poi... Nel 2012 non avremo approvato. Ecco, noi nel 2012, mi dice adesso l'assessore Tombolato, abbiamo approvato una delibera di giunta sul piano di azione comunale per il risanamento atmosferico del PM10, abbiamo fatto diversi interventi per quanto riguarda anche la sostituzione degli impianti di illuminazione e abbiamo quest'anno, mi sembra adesso, non vorrei sbagliarmi, assessore Piazza, ma abbiamo risparmiato parecchi soldi su quello che è l'illuminazione pubblica, siamo intorno ai 40 mila euro, di più addirittura mi dice. Abbiamo eliminato delle lunghe code per quanto riguarda l'istituzione delle due rotonde, così il traffico è un po' più fluido, è chiaro che non possiamo diminuire il traffico, non possiamo bypassare fuori il mestrino fino a quando non sarà costruito questo grande raccordo anulare che è nei progetti della provincia, visto che prima il consigliere Pinton diceva che le province ormai, io sono d'accordo su questo per quanto riguarda le province, perché il governo nazionale deve prendere un provvedimento, non vogliamo più le province, si chiudono e basta, non possiamo portare avanti questi enti che poi dopo alla fine rinascono sotto altri nomi. Comunque sia, queste azioni le abbiamo fatte, abbiamo interessato l'USL, grazie a Dio abbiamo il sindaco che è medico, che fa parte dell'USL numero 6, però noi siamo favorevoli a questa mozione qua e la votiamo anche come gruppo di maggioranza, e comunque azioni ne sono state fatte, sono state fatte parecchie apposta per abbattere l'inquinamento, perciò noi come gruppo di maggioranza siamo favorevoli. Il gruppo Vivi Mestrino ringrazia per l'accoglimento dei suggerimenti, emendamenti alla mozione e l'appoggia per i motivi già esposti durante l'intervento. Consiglio del Pinto, ok. Passare quindi alla votazione, voti a favore. Il Consiglio approva. Grazie. Grazie. Grazie.